Ecco lo staff, staff a riposo dopo una giornata di grande attività frenetica adesso si rilassano un po', qua abbiamo l'arbitro signor Mammarella qua ci abbiamo Andrea, qua ci abbiamo il nostro mister Tuttofare Nicola di Campli, qua ci abbiamo il dottor Jarlori, qua ci abbiamo Manuele addetto al Peveraggio Sottoposto Mancini, sottocosto Mancini, allora domani l'alza bandiera ho visto che i nostri ragazzi non sanno l'inno di Mammarella l'ho rivisto dal video, ho visto quelli di Lanciano lo cantavano meglio magari l'inno di Mammarella effettivamente giocassi i ragazzi avrebbero bisogno di una ripetizione Francesco mette l'espita che non deve dare ma bene bene domani deve essere più tipo alla Messimana quella del Brasile gol go gol gol go tan dategli una distinta che sia è bella che se legge bo ah devo riportare le distinte io ecco c'è avanzato un puster chi vuole un puster là c'è avanzato è per il puster prima il gattino Carlo